Ben ritrovati qui su Le Fonti TV, un'altra puntata di Doppio Binario, la parola a te Gabriele. Parleremo dell'attività, di come è cambiata anche l'attività degli organismi di vigilanza all'interno delle imprese, lo faremo come sempre. Grazie a nostri ospiti. A tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Come anticipato in apertura, in questa puntata parleremo di modelli 2 e 3 e 1 e come è cambiata l'attività degli organismi di vigilanza. Tratteremo l'argomento con i nostri ospiti in collegamento. Inizierei con il dottor Massimiliano Bellavista, partner di Keirion. Ben arrivato. Buonasera. Senta, allora dunque io partirei proprio con lei chiedendole a questo punto quali sono, proprio a proposito di modelli 2 e 3 e 1, è cambiata un po' l'attività, come già detto prima, dell'organismo di vigilanza. Allora quali sono i nuovi rischi per le imprese considerando anche quello che si sta vivendo in questo periodo storico, ovvero un'emergenza sanitaria in atto? Sì, diciamo in maniera molto sintetica, più che nuovi rischi ci sono dei rischi che certamente sono amplificati, insomma da far data da febbraio 2020, progressivamente nelle attività degli organismi di vigilanza, nelle attività di ispezione e aggiornamento dei modelli, non sono tanto le fattispecie nuove quanto i rischi amplificati che le aziende si trovano a affrontare a farla da padrona. In generale è ascrivibile a due aree, quella legata al passaggio delle informazioni da chi emana le polisi a chi poi le deve far rispettare, legate a un dislocamento delle risorse delle aziende sul territorio in una maniera molto più ampia, molto più fastagliata, senza precedenti rispetto a prima, e il che ha comportato e soprattutto comporterà una serie di problematiche del tutto evidenti nella gestione di rischi connessi per esempio alla riformulazione e alla gestione di tutta quella che è la parte giuslavorativa, quindi tutta la gestione della contrattualistica del lavoro, una parte assai considerevole di attenzione a tutto quello che è l'ambito IT GDPR, da una parte la sorveglianza e la gestione delle reti aziendali, cercando di emanare policy e farle rispettare per ciò che riguarda l'uso e soprattutto il controllo dell'abuso di queste reti, anche in maniera involontaria perché chiaramente i rischi sono maggiormente legati in questa fase proprio a questa dislocazione, a questa attività di remote working che comporta un controllo sicuramente in alcuni casi più che accettabile su quelle che sono le reti diffuse, ma un controllo assai difficile su quelle che sono poi gli usi degli apparati che le aziende danno in uso a chi fa remote working perché si trova a interagire in un ambiente che è quello domestico, o postazioni comunque proprio private con tutto quello che ne consegue in termini di potenziale uso e abuso di questi strumenti e di potenziale visione di dati anche riservati da parte di persone che non sono autorizzate a farle, ma che sono chiaramente ascrivibili a quello che è l'ambiente del remote working, quindi dell'ambiente domestico e così via dicendo, c'è un problema di riservatezza dei dati, di controllo dei dati, c'è un problema legato proprio all'uso e controllo delle reti e quindi a tutti gli aspetti legati alla gestione della continuità operativa delle aziende. Ci sono problematiche legate all'aspetto della salute e sicurezza sul luogo di lavoro perché quest'ambito che è strettamente legato ai modelli 231 è un ambito che anche esso risente delle diverse e profondamente mutate condizioni di lavoro sulle sedi fisiche aziendali e sulle sedi di remote working e anche del cambiamento di uso di questi infrastruttori, quindi tutto quello che riguarda la parte di 81-2008. L'aspetto forse più importante e di fondo di cui a mio avviso sentiremo le conseguenze anche nel lungo periodo è che i modelli, il modello 231 non fa eccezione a questo, tutti i modelli aziendali si basano su una componente che è quella della creazione e condivisa di regole e dall'altra parte quella del rispetto e il controllo delle regole e tutto ciò è assai difficile da fare, da porre in opera sia nella fase iniziale perché le problematiche legate alla formazione e all'informazione del personale, tutte quelle attività che su certi ruoli chiavi si facevano diviso, in presenza, con tutto quello che permetteva una formazione in presenza, on the job eccetera, si fa sempre più a distanza e quindi soffre di tutte le problematiche di cui soffrono i collegamenti e la formazione a distanza che sono in larga parte note a tutti. E dall'altro quella della problematica del controllo perché anche le attività di controllo sono rese difficili dalla situazione generale. Quindi più in una parola, più che di nuovi fatti specie parlirei proprio di una necessità di riformulare, ritarare i rischi e conseguentemente i controlli e la formalizzazione di policy legate alla situazione corrente finché si protrarà. La ringrazio io, allora a questo punto volevi chiederle appunto qual è tutto ciò, il ruolo, entriamo un po' più nello specifico, il ruolo del consulente e quello della sua realtà di Cairon. Cairon è una società che fa modelli su misura in gruppi di medie e grandi dimensioni, soprattutto nell'ambito servizi IT, ma non solo e in quello bancario. In generale però credo che il ruolo del consulente sia ascrivibile in generale alla necessità del supporto, supporto all'azienda in un momento così complesso e in una parola al dinamismo dei modelli. I modelli 231, come tutti i modelli aziendali, non devono invecchiare, non devono essere obsoleti. Il compito che un consulente può avere è quello di rendere dinamico il modello, di consentire e facilitare il dialogo con il management e le possibilità di aggiornamento, di consentire e fluidificare quelli che sono gli aspetti di integrazione con gli altri modelli aziendali. Tutti sappiamo, chi opera in questo settore sa bene che il modello 231 non è avulso dalla realtà aziendale, c'è un mutuo beneficio dall'integrazione con gli altri sistemi che le aziende hanno nei vari ambiti, quindi i modelli che derivano dall'ambito ISO, possiamo citare 9001, 27001, ISO 20000, ISO 22301, tutte le norme specifiche, ma anche tutti gli altri modelli aziendali sia che riguardino normative cogenti che certificazioni di carattere volontario. E questa vista di integrazione tra vari sistemi un consulente la può fornire molto bene e favorisce da una parte il dinamismo del modello 231, da una parte una sua visione da un punto di vista non solo legale, ma anche di processo. Il modello 231 deve compenetrarsi di questi due fattori, certamente il forte presidio di carattere legale, ma anche una capacità di approcciare le attività aziendali e dandone una visione, una vista di processo, perché si tratta di attività dinamiche. Quindi non si tratta solo di definire le fattispecie di reato e sanzionare o definire una classifica dei principali rischi, ma si tratta anche di seguire i processi, descrivere i processi, comprendere i processi e assecondarli, non ingessando l'attività. E poi la componente generale è quella di poter garantire anche una formazione per il fatto stesso che il consulente nella sua attività interagisce con varie realtà e quindi può fornire, nel rispetto alla riservatezza dei vari modelli, certamente però un'esperienza e un'indicazione di best practice che sono importanti nei modelli 231. Non tutto è prescritto alla normativa, poi esistono vari modi di formulare un modello, vari modi di interpretarlo, vari modi di gestire un'analisi di rischio. Di conseguenza un'esperienza dettata anche da un bagaglio legato alla visione di altri modelli in altre realtà può consentire di fare quella stessa cosa che fa sempre il management di ogni azienda, cioè copiare dei pezzi, delle parti di altri modelli di business per arricchire il proprio. Nella gestione di un modello aziendale si fa un po' la stessa cosa per un'altra finalità, cioè comprendere come gli altri si regolano per cercare di migliorare il proprio approccio anche alla gestione del rischio. Per tutto questo Carion ha cercato di farlo e cerca di farlo già ormai da una ventina d'anni. Dottor Belavista, io ovviamente la ringrazio, la saluto e la ringrazio per il suo importante contributo in questa prima parte di Doppio Binario. Io ringrazio voi. Passo ora la parola al secondo ospite in collegamento che saluto, l'avvocato Chiara Padovani dello studio legale Padovani, ben arrivata. Grazie, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Dunque le chiedo allora, come è cambiata l'attività dell'organismo di vigilanza? L'attività dell'organismo di vigilanza possiamo dire che si è cambiata sia in termini qualitativi che quantitativi. Qualitativi perché la progressiva introduzione di nuovi reati di particolare complessità tecnica, penso dai reati informatici a quelli di cybercrime, da ultimo ai reati tributari, hanno imposto un ampliamento della sfera, delle aree di controllo dell'organismo e di vigilanza dell'organismo di vigilanza, ma anche una richiesta sempre maggiore di alte competenze in campo penalistico particolarmente specifiche e tecniche. Inoltre, come sappiamo, l'emergenza sanitaria tuttora in atto ha fatto derivare una serie di rischi diretti e indiretti in tema 231 che mi hanno messo a duro banco di prova la resistenza, la tenuta dei sistemi 231 e che ha imposto e che deve imporre correttamente all'organismo di vigilanza una maggiore attenzione ad aree del ciclo passivo ed attivo che in tempi di normalità, come dire, magari non erano direttamente sottoposti alla vigilanza e al controllo dell'organismo. Quindi potremmo dire che le modifiche alla tipologia di attività, alla tipologia di metodologia di vigilanza e di controllo sono profondamente modificate negli ultimi anni e sono ulteriormente modificate in ragione della pandemia, come dicevo, sia sotto un profilo qualitativo ma anche sotto un profilo quantitativo rispetto all'impegno di tempo, di dedizione che l'organismo deve ovviamente dedicare alla vigilanza e al controllo sull'efficace attuazione del modello organizzativo. A questo punto le chiedo quali sono dunque le caratteristiche peculiari dell'organismo di vigilanza adeguato ai nuovi rischi? Beh, innanzitutto le caratteristiche peculiari sono comunque ancora quelle tracciate dalle direttrici normatrive e quindi da quelle che sono ricavabili e dal combinato disposto di quale articolo 6,1 lettere B e D del decreto legislativo 231 del 2001. Quindi ovviamente sul presupposto che la caratteristica principale dell'organismo deve essere sempre la sua autonomia e la sua indipendenza nell'esplicazione dei propri poteri propositivi, consultivi, istruttori ed impulso, a ciò ovviamente si aggiunge nella pratica una capacità complessiva dell'organismo se si parla ovviamente di organismi collegiali, una capacità complessiva di esplicare al meglio le proprie competenze. Quindi ciascun membro dell'organismo di vigilanza dovrà avere un elevato standing di professionalità e nell'insieme essere l'ideale per vigilare al meglio su quel modello calibrato su quella specifica realtà aziendale. Quindi non tutti i componenti dell'organismo di vigilanza devono avere le stesse caratteristiche per tutti gli organismi di vigilanza delle diverse aziende. La componente penalistica è fondamentale perché sappiamo che la materia di cui trattiamo è una matrice penale che riguarda una responsabilità che vedrà in casi negativi l'ente al banco degli imputati insieme alla persona fisica imputata, quindi la materia di cui trattiamo una materia penale. La componente di specializzazione penalistica deve essere presente, ma ovviamente a ciò si devono accompagnare altre professionalità che, ripeto, devono essere coerenti con quella specifica tipologia di rischio al quale l'azienda è maggiormente esposta. Avvocato Padovani, la ringrazio e la invito a restare in collegamento per la seconda parte di Doppio Binario. Io ovviamente invito anche gli amici che ci ascoltano, che ci guardano da da casa, di restare qui con noi perché pochi minuti di pubblicità e poi, come annunciato prima, inizierà la seconda parte del programma. A tra poco. Ben trovati per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare dell'attività di vigilanza all'interno delle aziende e di come è cambiata questa attività nel corso di questa emergenza sanitaria. Lo facciamo con i nostri ospiti e vi presento prima appunto l'avvocato Sara Citterio, General Counsel di Tussardi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, ben ritrovato. Grazie per essere qui con noi. Le chiedo appunto come è cambiata in questo anno, siamo ormai giunti all'anno da quando è iniziata questa emergenza, come è cambiata l'attività del vostro organismo di vigilanza. Prego. L'attività dell'organismo di vigilanza in realtà nel merito non è cambiata tantissimo. Quello che si è intensificata è stata la parte più relativa ai controlli, nel senso che il nostro modello organizzativo in realtà era un modello organizzativo piuttosto recente che quindi aveva preso in considerazione tutta una serie di sviluppi, tra cui ovviamente anche le normative più recenti. Quindi dal punto di vista della struttura del nostro modello non abbiamo ritenuto opportuno e necessario soprattutto dover intervenire. È logico che il manifestarsi della pandemia ha creato tutta una serie di occasioni in più rispetto a quelle precedentemente mappate ovviamente, che riguardano una serie di reati. I reati diciamo più sensibili a livello di Covid-19 possono essere sia ovviamente i reati legati proprio per anche la situazione emergenziale, la normativa emergenziale che si è verificata, magari maggiore esposizione a quelli che possono essere i reati nei confronti della pubblica amministrazione, perché ci sono stati molti più contatti dell'azienda, la nostra ma penso anche tante altre, per l'ottenimento dei finanziamenti previsti dalla normativa emergenziale. Quindi questo era un po' un'area che almeno per quello che ci riguarda era meno sotto il controllo, proprio perché le occasioni anche di contatto con la pubblica amministrazione non erano particolari in epoca pre-Covid, ovviamente sono aumentate. Quindi questo ha comportato un maggior contatto, una maggiore esposizione ed anche quindi una maggiore necessità di verifica che i protocolli in azienda venissero rispettati. Ovviamente ci sono poi state anche altre sensibilità, molte di queste legate a quello che è stato il periodo di telelavoro o smart working all'interno dell'azienda che ha aperto ovviamente il fianco all'utilizzo maggiore di reti da casa da parte dei dipendenti non protette e quindi una maggiore sensibilità anche rispetto a reati informatici di vario tipo. È logico che quando uno lavora alla propria postazione all'interno dell'azienda ci sono tutta una serie di sistemi di protezione che magari a casa possono essere evasi in maniera molto più facile. Quindi questa è un'altra area dove si è intensificata l'attenzione rispetto alla possibilità di commettere reati. Un'altra possibilità che abbiamo riscontrato e che purtroppo ho visto anche recentemente e anche proprio oggi leggendo alcuni giornali è quella dell'approvvigionamento di alcuni DPI che ovviamente purtroppo a ridosso della nascita dell'emergenza erano introvabili, ora grazie al cielo sono un po' più disponibili che però aveva creato tutta una serie di problematiche di approvvigionamento. Parlo ad esempio delle famose mascherine, sappiamo tutto insomma quello che era successo ma giusto per indicarne alcuni c'era anche stata un po' di difficoltà anche di approvvigionamento dei liquidi di disinfezione delle mani per esempio. Ecco qui tutta la catena anche di approvvigionamento di questo tipo di prodotti ovviamente creava delle sensibilità o avrebbe potuto diciamo creare delle sensibilità e degli episodi di rischio magari potenziale però comunque da valutare anche di corruzione tra privati piuttosto che di acquisto di presidi non conformi rispetto alla normativa. Purtroppo le cronache ci hanno restituito alcuni casi nei quali questo rischio si è verificato. Ecco quindi anche da questo punto di vista diciamo le attività di controllo si sono andate a puntualizzare, ad intensificare. Questi diciamo per quello che riguarda quelli che potrebbero essere i reati indiretti perché poi sappiamo che i rischi diretti che abbiamo affrontato tutti come datori di lavoro sono ovviamente quelli legati alla salute e alla sicurezza e quindi il controllo dell'applicazione all'interno dell'azienda in tutte le sue unità produttive di quella che era la normativa relativa all'organizzazione del lavoro a seguito della riapertura quindi dopo la fase 2 noi ovviamente in fase 1 avevamo e questo è un altro controllo tra l'altro che abbiamo fatto avevamo dei codici a teco che non ci permettevano l'apertura quindi abbiamo comunque dovuto constatare e applicare la chiusura e dopodiché quando in fase 2 siamo riusciti a riaprire poco per volta tutte le unità produttive anche questo ha comportato ovviamente un controllo dell'applicazione dei protocolli l'ultima versione quella del 24 di aprile dell'anno scorso e anche questo ovviamente ha coinvolto anche gli organismi di vigilanza interni dell'azienda perché giustamente c'è stato anche una verifica e un'interfaccia con quelli che sono i comitati interni che si occupano direttamente di questa attività per valutare che tutte le procedure messe in atto fossero coerenti rispetto alla normativa e fossero ovviamente implementate correttamente anche nel corso del tempo. Sì poi tra l'altro tralasciando il fatto che la normativa non sempre è stata chiara gli interventi normativi si sono susseguiti spesso in modo diciamo caotico e questa è effettivamente una esternalità da tenere presente in questo senso le chiedo in che modo visto che non è possibile prevedere quali saranno anche i nuovi rischi in che modo è possibile avere e costruire un modello che sia il più possibile flessibile e impermeabile a questo tipo di rischi. Purtroppo ovviamente l'impermeabilità è difficile da ottenere anche perché quello che noi cerchiamo di fare è di minimizzare i rischi sfortunatamente soprattutto appunto quando ci sono modalità di lavoro da remoto per cui c'è anche meno possibilità di controllo da parte del datore di lavoro è logico che questo può occasionare delle attività fuori da quelle che sono i normali perimetri che vengono generalmente osservati all'interno dell'azienda quindi l'unica cosa che si può fare in questi casi è intensificare le attività di vigilanza focalizzandosi proprio su quei settori che più di altri e quindi va fatta ovviamente una valutazione ex ante assolutamente scevra da qualsiasi tipo di pregiudizio quindi si va ad analizzare quelle che potrebbero effettivamente essere le aree sensibili indipendentemente dal fatto che si siano o meno verificati in passato determinate violazioni di quei protocolli e poi si vanno ad applicare controlli che possono essere più o meno stringenti a secondo del grado di rischio che si viene ad analizzare purtroppo eliminare totalmente il rischio è impossibile ma minimizzarlo e a questo punto anche il fatto appunto di una presenza costante dei controlli che comunque fa sentire la presenza di un organismo che vigila è già di per sé o comunque può costituire un deterrente per evitare che alcuni rischi poi possano trasformarsi in vere e proprie occasioni di reato certo quindi in questo senso l'attività dell'organismo di vigilanza è sicuramente fondamentale è un ruolo decisamente chiave. Avvocato io la ringrazio per essere stata con noi grazie a voi per l'invito grazie a lei l'avvocato Sara Citterio General Counsel di Trussardi e cedo la parola all'avvocato Chiara Padovani fondatrice dello studio legale Padovani buongiorno grazie grazie a voi grazie a lei ecco a lei chiedo appunto qual è l'importanza che riveste l'organismo di vigilanza all'interno di un'azienda l'importanza è centrale come si evince anche dalla razza dell'intero impianto normativo di quel decreto legislativo 231 del 2001 perché sappiamo dal combinato disposto dell'articolo 6 comma 1 lettere B e lettera D che è proprio l'organismo di vigilanza a operare anche in chiave esimente rispetto a una potenziale responsabilità dell'ente laddove la funzione di vigilanza e di controllo sull'efficace attuazione del modello sia stata attribuita ad un organismo indipendente quindi ad un organismo di vigilanza indipendente ed autonomo e se l'organismo di vigilanza abbia nel corso del tempo espletato questa attività in maniera densa concretamente efficace e quindi che non possa essere rimproverata in qualche modo in chiave omissiva rispetto a questa vigilanza all'organismo di vigilanza e quindi all'ente non solo ma questa importanza poi questa centralità del ruolo dell'organismo di vigilanza la desumiamo anche da quelli che sono i poteri concreti che sono attribuiti non soltanto dalla razza normativa ma anche potremmo dire dalla soft law e quindi dalle varie linee guida e dalle migliori pratiche nazionali poteri che sono quelli propositivi, consultivi, istruttori ed impulso che pur come dire essendo lontani sia qualitativamente che quantitativamente rispetto a quelli impeditivi, disciplinari o di diretto potere modificativo del modello assumono però come dire riassumono il cuore del compito di vigilanza dell'organismo stesso. A questa centralità poi oggi si affianca una particolare attenzione che l'organismo deve prestare verso non soltanto la trattazione delle segnalazioni anche in chiave wisdom blowing di cui in alcune realtà aziendali l'organismo è destinatario come canale appunto destinatario delle segnalazioni anche in chiave wisdom blowing ma anche della formazione quindi della formazione della comunità lavorativa sulle tematiche 2-3-1 e soprattutto ovviamente sulle concrete realtà dei singoli modelli e quindi dei singoli protocolli di prevenzione in chiave penal preventiva. Certo, ecco ma vista appunto l'importanza che riveste l'organismo di vigilanza ci sono a suo avviso dei passaggi cruciali, diciamo così dei passaggi chiave che l'azienda deve seguire per dotarsi di organismi insomma adeguati. Se vogliamo riassumerli molto scientificamente il primo step è quello di scegliere motivatamente se l'azienda vuole dotarsi di un organismo monocratico collegiale e guardate bene questo primo passaggio è fondamentale perché deve essere un passaggio che dovrà rispondere in termini coerenti alla realtà aziendale e al grado qualitativo e quantitativo di esposizione di quell'azienda a determinati rischi di reato. Quindi la prima scelta motivata che dovrà fare il Consiglio di amministrazione nei casi in cui sia il Consiglio di amministrazione ovviamente a nominare l'organismo di vigilanza sarà quella di scegliere tra un organismo monocratico e un collegiale. Il secondo step sarà quello di valutare a quel punto qualitativamente che tipo di professionalità l'organismo ha bisogno rispetto a quella realtà aziendale. Ovviamente la scelta sarà più complessa nel caso di organismo monocratico perché quello che io consiglio è di avere sempre a parte i casi in cui il collegio sindacale può svolgere questo ruolo come previsto dal decreto legislativo 231 ma in ogni caso è in quell'ipotesi fondamentale la presenza di un professionista con una preparazione penalistica molto forte che ovviamente abbia già avuto delle precedenti esperienze in questo ambito perché ovviamente l'organismo di vigilanza monocratico non beneficia di quella possibilità di confronto dialogico con altri membri. Rispetto invece a un organismo di vigilanza collegiale oltre a una figura di penalista saranno necessarie altre professionalità che ripeto non si possono standardizzare nella loro scelta preventivamente, dovranno essere calibrate sulle specifiche esigenze aziendali. Per fare un esempio concreto, se un'azienda è particolarmente esposta a reati collegati, reati ambientali o di sicurezza, di igiene e sicurezza sul lavoro è evidente che anche la presenza di un professionista, ad esempio di un ingegnere ambientale o comunque di un professionista che si occupi dal lato tecnico di queste materie è sempre preferibile. Bene, insomma dei consigli molto molto utili per le imprese, per appunto mettere a punto un organismo adeguato. Avvocato io la ringrazio molto per essere stata con noi. Grazie a lei, grazie a voi alla redazione. Grazie anche ai nostri telespettatori, appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.